Ieri altro incontro in remoto per organizzare il rientro in presenza nelle scuole salernitane previsto per il prossimo 7 gennaio. Il primo incontro del 22 dicembre scorso aveva come obiettivo coniugare le esigenze dei due comparti, scuole e trasporti, e coordinare gli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con gli orari dei servizi di trasporto che saranno scaglionati per le superiori nelle aree più densamente abitate, Salerno-Valle dell'Irno e Agrono-Cerino-Sarnese. L'incontro di ieri è stato convocato invece per un punto di aggiornamento per il completamento del documento operativo sotto l'aspetto finanziario con l'indicazione delle spese da sostenere per i servizi aggiuntivi nei mezzi e delle linee che saranno implementate. Nel contempo è stata chiesta assicurazione all'ufficio scolastico provinciale in merito all'esecuzione da parte degli istituti scolastici delle misure organizzative necessarie per dare attuazione al documento che, come detto, ha previsto doppi turni light solo per le zone Salerno-Valle dell'Irno e Agrono-Cerino-Sarnese, con ingresso a scuola in due fasce orarie, entrata dalle 8 per le classi prime, seconda e terza e 9 e 30 a 10 per le classi quarte e quinte e di conseguenza il differenziamento delle uscite. È un orario unico d'ingresso e uscita delle scuole, implementando le corse esistenti nelle restanti zone della provincia di Salerno. Sul primo punto il presidente della Quarta Commissione Trasporti della Regione Campania ha reso noto che è stato già predisposto e trasmesso alle aziende di trasporto un file che le stesse dovranno compilare con i dati richiesti entro lunedì 4 gennaio. Per quanto concerne l'ambito scolastico, l'ufficio scolastico provinciale ha diramato un'apposita circolare ai dirigenti scolastici per condividere i contenuti del documento operativo e consentire l'attuazione. Al termine dell'incontro del tavolo, il prefetto russo ha concluso sottolineando che la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria è certamente un traguardo al quale si deve mirare e verso il quale si deve convogliare tutte le energie che ci sono in campo, tenendo conto dell'andamento della curva epidemiologica e delle decisioni che saranno di volta in volta adottate.